Buonasera a tutti, anche io come Presidente del Consiglio voglio fare le mie comunicazioni sulle mie spese e ridicotare un po' il lavoro fatto. In questi giorni qualche giornale ha alzato la polemica sulle spese di rappresentanza degli assessori e del sindaco. Io come Presidente del Consiglio Comunale sono una cosa a parte come budget e capitoli di spesa. Faccio presente che il 28 giugno sono andato a Bologna per la riunione dell'Anci, questa è la documentazione a supporto delle spese che ho sostenuto, che sono il totale di 13,60 euro perché mi sono regato a Bologna con un treno regionale veloce in seconda classe. Qui vedete la classe del treno, seconda. Non so come si muovessero i miei predecessori e non mi interessa. Io per quanto è opportuno per il discorso di tempistiche, di viaggi, di ritorni ed impegni, se potrò continuerò in questo senso, ovvero seconda classe e treni regionali. Buonasera.